In vista delle celebrazioni in onore di San Vincenzo Romano e dell'Immacolata, la Basilica di Santa Croce ha reso noto l'intenso programma di preparazione per i fedeli, che nonostante le restrizioni non vogliono mancare agli appuntamenti più sentiti dell'anno. Ai microfoni di TV City, Don Josue Lombardo ci spiega in che modo sarà possibile la partecipazione alle funzioni. Ieri abbiamo reso pubblico il cammino, noi non diciamo tanto il programma, il cammino verso le prossime celebrazioni. Così abbiamo dato conferma di quello che già tutti sanno, che le conosciute vicende anti-Covid, anche quest'anno non potremo realizzare la tradizionale processione per le strade cittadine, proprio quest'anno in cui ricorrono i 160 anni del voto all'Immacolata. Proprio perché ricorre i 160 anni del voto, allora come potrete vedere, il programma è ancora più nutrito di celebrazioni e di presenze in Basilica di tutti i sacerdoti torresi, anche quelli che sono fuori torre, e di tanti amici vescovi che verranno a guidare le celebrazioni e aiutarci nella preghiera. Come vedete è già in allestimento da oggi la costruzione di questo trono solenne, su cui, come lo scorso anno, sarà esposta solennemente la venerata immagine dell'Immacolata. Il titolo è Segno di salvezza e di speranza. È preso da una preghiera che Papa Francesco ha rivolto alla Madonna nell'ultimo mese di maggio. Mi colpì già allora questo titolo col quale la Madonna veniva invocata dal Papa. Lo riportiamo, questo titolo, sul nostro trono. Segno di salvezza e di speranza in questo tempo di difficoltà. Cominciamo da sabato prossimo le celebrazioni in preparazione alla festa di San Vincenzo e cominciamo proprio con la giornata di intercessione del 20 del mese. Come molti sanno, il 20 di ogni mese noi dedichiamo una giornata particolare di intercessione e davanti a Gesù nella messa e nell'adorazione vengono nominati i nomi di tutti gli infermi che ricorrono alla intercessione del Santo. E poi tutta la settimana ci condurrà alla festa del 29 quando avremo con noi il nostro arcivescovo e tutto il presbiterio. Per questa celebrazione purtroppo i posti saranno su prenotazione con un ticket, con un biglietto per poter accedere in Basilica ma proprio per non lasciare nessuno lontano la celebrazione sarà trasmessa in diretta alle 18.30 sui canali social della Basilica e anche su TV Siti e anche poi alle 20 di quella sera trasmetteremo il Vespro e la benedizione solenne. Secondo momento solenne, l'Immacolata che ci porta verso il Natale e quest'anno celebreremo anche il Buongiorno a Maria alle 7 del mattino il Rosario, la Messa delle 7.30 così solennezzeremo la Novena anche col Rosario alle 9 e alle 9.30 ci sarà sempre un sacerdote o un parroco della città la Novena della Sera come sempre il canto del Totapulcra, le Litanie la Messa delle 18.30 e alle 20.30 la preghiera serale della Buonanotte a Maria anche questa preghiera serale della Buonanotte sarà trasmessa in diretta su TV Siti per il giorno 7, ecco, la Vigilia ci sarà una celebrazione particolare alle 13 con i portatori del carro e alle 14 faremo l'atto di affidamento della città all'Immacolata quest'anno possiamo celebrare anche la Messa di Mezzanotte tutta la notte la Basilica resterà aperta per la venerazione dell'Immacolata e per l'adorazione dell'Eucarestia e ci sarà la prima Messa alle 4 e poi ogni due ore per le messe del giorno dell'Immacolata bisognerà prendere un biglietto con l'orario per la Messa perché dobbiamo evitare gli assembramenti infine un messaggio di speranza per tutto il popolo torrese privato anche quest'anno della solenne processione abbiamo detto che questo trono è intitolato Maria, segno di salvezza e di speranza è quello di cui abbiamo bisogno tutti innanzitutto guardare a lei perché lei ci porta a Gesù per Maria a Gesù abbiamo citato San Vincenzo Romano che in un commento a un mistero del rosario diceva così San Vincenzo fedeli miei siate devoti della Madonna una sola parola di Maria Santissima al suo divin figlio basta far ottenere qualunque grazia quindi guardare alla Madonna segno di salvezza che ci conduce a Gesù e qual è il frutto poi della salvezza? la speranza la speranza cristiana che è la capacità di guardare il sole che splende al di là delle nuvole io sono un uomo di speranza diceva un autore perché ogni mattina Dio appende il sole fuori della mia finestra ecco il sole della nostra vita è Gesù Gesù che viene ritorna per noi nel prossimo Natale in compagnia del nostro parroco santo e guardando alla Madonna prepariamo il cuore il cuore la vita le famiglie ad accogliere Gesù i segni esterni del Natale passano ci rimane Gesù che ci fa vivere da uomini salvati e portatori di speranza nella vita feriale nella vita di tutti i giorni quindi come sempre buon cammino guardiamo in alto guardiamo la stella e invochiamo Maria grazie a tutti